Le principesse brillano con i loro vestiti sfavillanti. Entra nel mondo delle principesse con la nuova collezione Disney Princess. È forse la mia Pocahontas? Nonna Salice, ho bisogno di parlarti. Buongiorno, bambina. Speravo tanto in una tua visita oggi. Guarda, la collana di tua madre. È proprio di questo che ti volevo parlare. Mio padre vuole che io sposi Cucum. Cucum? Ma è così serio. Lo so. Mio padre trova che sia la via giusta per me. Ma vedi, c'è un sogno che faccio sempre e credo che mi... Ho un sogno! Coraggio, raccontami tutto! Silenzio! Silenzio! Allora, bambina, stavi dicendo... Bene. Sto correndo tra i boschi. Ed ecco che là, davanti a me, c'è una freccia. E come la guardo, lei comincia a ruotare. Una freccia che ruota. Che cosa insolita! Sì, e ruota in fretta, più in fretta, più in fretta. Finché a un tratto, si ferma. Bene. A me sembra che questa freccia che ruota ti voglia indicare la tua via. Ma, nonna Salice, qual è la mia via? Come farò mai a trovarla? Tua madre mi fece la stessa identica domanda. Davvero? A me sembra che la storia è la mia. A me sembra che la mia. A me sembra. A me sembra che la mia. Ma. Ma. A me sembra. Grazie a tutti.